Buongiorno a tutti, scusate, allora le mie notizie invece riguardano la salute. Sono arrivate adesso le notifiche a noi ospedalieri, dal San Gerardo di Monza, dal Policlinico, dal Sacco, insomma gli ospedali quelli più impestati, facciamo prima di dire così. Allora, è efficacissima la vitamina C sui pazienti già affetti da coronavirus, la stanno usando come terapia e i pazienti rispondono benissimo. Quindi, assunzione di vitamina C anche a scopo preventivo, nell'ordine di 1-2 grammi al giorno. Come fare? Sicuramente una spremuta di arancio, limone e un kiwi al giorno, se si utilizza l'alimentazione, ma supplementato da una compressa da 1 grammo di cebion, vitamina C che trovate nelle parafarmacie o nelle farmacie. Mi raccomando questa cosa, divulgatela il più possibile. Vitamina C a tutti quanti, bambini, adulti e soprattutto anziani, nell'ordine di 1-2 grammi al giorno. Ciao!